ma secondo voi perché fermarsi a Baker Baker come si dice come volete assolutamente nel mezzo del deserto non c'è niente di niente tranne tranne questo termometro da guinness dei primati perché il termometro più alto al mondo praticamente qui si registrò tanto tempo fa la temperatura più alta della terra e quindi fecero questo fantastico termometro eccolo qua eccolo qua il più alto termometro al mondo questa qui è la targa commemorativa perché quando fu registrata la più alta temperatura ci si poteva cuocere le uova nel segamino al calore del sole è mitico è ovviamente per il resto delle cose a Baker o Baker come volete chiamarlo non c'è assolutamente niente ah nella death valley giustamente ci sono anche gli alieni e quindi c'è un ufo hotel meraviglioso che degli alieni ciao con l'alieno che ci saluta è una cosa favolosa perché anche questa è america è immenso questo ufo hotel in mezzo al deserto esattamente quindi a Baker Baker come volete e in un posto completamente proprio al confino della death valley in un posto dove non c'è niente cosa abbiamo abbiamo il termometro da guinness dei primati quindi il termometro più alto al mondo e l'ufo hotel quindi una base ufo fantastico attenzione perché abbiamo l'auto alieni a bordo guarda 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 come sono simpatici i nostri amici i nostri amici interplanet galactic meraviglioso 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 noi andiamo al bagno degli alieni ciao e ovviamente nello shop ci abbiamo tutto ciò che riguarda gli alieni ovvio dai fumetti tutti i gadget possibili immaginabili alieni comprese tutte le varie specialità di carne ghost pepper beef jarky sud west out species tutta la carne seccata possibile immaginabile di tutti i tipi di tutti i tipi fantastico gadget compresa la favolosa carne invisibile al modo in prezzo di un dollaro e 50 ovviamente per il niente è un prezzo molto appropriato c'è veramente di tutto la cosa è meravigliosa queste sono tutte le salse barbecue xxx hot fantastico mamma mia un posto che è una meraviglia addirittura le provette vedi lunar ice meraviglioso tutte le caramelline possibili immaginabili alieni yogurt pretzel fantastici di yogurt pretzel ci abbiamo anche tram palieno meraviglioso ma non ci manca veramente niente bellissimo cosa abbiamo comprato Dani abbiamo comprato di yogurt pretzel d'aliene ovviamente yogurt fatto dagli alieni ok e adesso andiamo verso la death valley ovviamente dobbiamo assaggiare a questo punto il nostro yogurt pretzel bene chi mangia buono 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 molto buono non è male vai non è male sanissimo buono 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 consigliato approvato e se ti è piaciuto il video lascia un like e seguici ciao e se ti è piaciuto il video lascia un like e seguici ciao ciao